salve noi siamo i paga maga qui siamo al nostro primo video la nostra prima guida dopo aver creato la nostra pagina non mi ricordo quanti mesi fa siamo riusciti siamo riusciti a comprare una telecamera decente per filmare decente noi come probabilmente avete letto dal nostro canale siamo in quattro i paga maga siamo un quattro un gruppo di quattro persone e in questo momento siamo due a fare questa vita ci sono anche io ci siamo in due io sono appunto a avete letto sul nostro canale noi ci diamo in un amico delle lettere io sono appunto a e lui e me guardate dietro al 3 si super maio approcione no bene l'ho notato adesso me lo sono chiuso questo gioco non ho notato appena adesso lui non ci ha mai giocato noi iniziamo questa guida questa è la prima guida come ho già detto siamo alla prima parte giocheri ma due giocatori lui giocherà con mario io giocherò con luigi io sono una fama quindi molti non non sbagliato pensate che sia strano che vedete che perdo dei livelli anzi è molto probabile ecco non mi forterai due poste di seguito queste piante che sputano fuoco che poi non ha capito le piante piranha idiota non sai che cosa si chiamano le piante piranha non sono quella vabbè non fa niente sono quelle la verdi sono entrambe le piante piranha sono idiote con le piante perché due tipi non so perché le hanno fatte ora vi ricordiamo che questo è un gioco idiota del 1991 e non ho molti comandi come super mario di quest'anno di questi ultimi anni quindi non potremmo fare questo è la schiacciata non la potremmo fare lo scanto a terra si dice lo scanto a terra i nostri nomi sono andrea e mario ve lo diciamo già adesso andrea sono io appunto a lui e mario e un minuto ci ho messo per questo e le passano il testimone ma non è adesso con l'altra ricorda io non chiamo testi il secondo livello che io giocherò con luigi e ora ci faremo quattro risate si non fate caso se perdo se faccio queste cose note perché non sono proprio abituato a giocare a questo gioco questi funghi che ti cercano di fregare in continuazione i gubba i gubba ovviamente a normale livello di super mario siamo i primi poi si vorranno sempre più complicati più complicati più complicati poi fino a quando non ti uccideranno ecco un'altra foglia che ti forno ecco ha puntuale la sua genialità per due volte di seguito il gubba lato e va bene sono riuscito a fare un livello sono riuscito un miracolo ah io sono mare piccione potete vedere che si può passare direttamente a livello quattro noi faremo tutti i livelli perché è divertente per far vedere alle persone che non sanno giocarci come si fanno e perché non so farlo mi giudicate poi giudini è idiota che è concluso due amonetine due amonetine vado più a no perché mi rompo il cacchio di bello me ne frega me ne frega ah che cosa te ne frega non ti abbiamo detto niente mi scatta all'improvviso e con il terzo livello è idiota e mi rimanca il bersaglio ho due sterili che c**o lo posso dire che c**o ah è il livello quattro questo è mio antipatico che cosa fumo che la faccio a fare bene ok questo è mio antipatico andateci di far fare questo livello appunto a eh 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 il contrario non ci farebbe niente grazie vedrete che lui è più destreggiato più bravo di me in questi giochi perché lui se li è anche chiusi io non tutti questo per esempio ma sono chiuso io sono ancora all'inizio con questi giochi ancora non lo avevo ancora non lo sai ancora non lo sei comprato vabbè facile si allora ma ci sono le L di Luigi perché lui ha perso la? le L di Luigi ah tu hai perso tu sai che da lui si riferiva a questi blocchi che si mette una forma L eh cosa? non lo ricordavo tu non ti ricordi mai niente e poi questo gioco non l'ho ancora finito sto al tenzo quarto mondo ah bene perché mi scorcio di giovarci lo finiremo mentre facciamo la guida mi è arrivato proprio un bambino che nello in italiano si quindi entra che ci gioco in giapponese solo io quello che fa le notte con scavopalestra è vero è vero noi siamo in quattro ma sono io quello che pubblica i video e siamo solamente in tre che ci piace queste cose non dovrei capire cosa bisogna fare scintini al tubo siamo quattro ma siamo solamente in tre a cui piace questi giochi ed è una app basta è una persona che sarebbe G piace la musica rock piace la musica rock ora questa livella questo è l'ultimo che farò perché il tempo siamo a sette minuti il massimo è un quarto dove possiamo arrivare anche al secondo castello se tu non muori ogni volta non cadere nero lava è come gli usi parma le due sui eh sì le cialde le cialde anzi sull'acquisto il cilio passione segreta di mario non è come segreta la nostra ma anche lui ok ma ne vi state accorto accorto? stai attento abbassati abbassati bene non c'è bisogno oh non lo so dove voglio assolutamente abbassare abbassati stasera di abbassarti ecco ecco hai il boss adesso vuoi vedere come lo basso? vedete questi belli livelli quanto è pixelato questo gioco noi abbiamo saputo e se quel gioco è pixelato è pixelato che cos'è col piccolo slot scuidami è facile è come un toyota è facile non è come un toyota non è come un toyota ma lo prossimo è normale che non è come un toyota ma lo prossimo what? io non ho ancora l'interposta sono colpunti interrogativi devi spiegarmelo di questi giorni io mi ricordavo che si prendivano le chiavi vabbè vabbè arrivo guarda se no la bomba tomica è demolito il castello se la facciamo ad arrivare anche alla quinta parte anche al quinto livello volevo dire questa è la nostra prima guida questo mi piace mi piace questa è la nostra prima guida ma ne faremo altre in seguito su altri giochi siamo in programma siamo in programma di boss didocchi con Cancellatorius ma se avessi trovato il telecomando riuscirei anche a farlo si in due se avessi trovato il telecomando da noi non puoi farlo senza noi ecco che Mario ci stupisce con le sue mosse perchè solo io sono in modo di eseguire ah no che hai detto? solo io sono in modo di eseguire si poi vedremo mi raccomando una cosa mi raccomando una cosa che dirò in tutti i miei video ma beata mia per favore oh stai una beata minchia per favore iscrivetevi al nostro sito al nostro canale volevo dire no al nostro sito eeeh Platon ha chiuso se non sbaglio eh si Platon ha chiuso e noi stiamo ancora piangendo per lui ehm sta piangendo per lui ehm sta piangendo per lui ehm sta piangendo con noi non saremo qui non saremo né qui né a casa nostra né alla conoscenza di giochi come pikmin no io lo sapevo già pikmin no io lo sapevo già pikmin siete voi quelli che non lo sapevate Andrea ci sta chiedendo come arrivare a quella morire ecco faccio tu sei più pratico vediamo siamo a due livelli fatti da me e appena quattro fatti da me muovi facile stella e ora mi ha finito distruggere tutti qui tocca a te e vai questo è bello di trovare di trovarsi Mario a casa forse anche lì di fa speed voglio è tornata la morte più idiota questa ah si si vergogna cioè ammazzato da occupa non mi rendo conto ammazzato da occupa ma questo gioco si chiamano tastarubie eh questo gioco io le chiamo tastarubie tu le chiami tastarubie si chiamano occupa mmm definita quella stella che vinto ma non è la carta è la strumento non la uso soltanto perchè voglio beffeggiarti che sono capace di fare la morte perchè non riesci a saltare da nuovo perchè Luigi salta più in basso di Mario che l'hai truccato questo gioco ah ecco ecco Luigi io mi ricordavo che saltava più in alto degli altri giochi andiamo altri 3 minuti non ci riusciamo ad arrivare al castello vabbè farò questa senza parte farà la parte ti ricordo che dobbiamo mettere anche la intro oh giusto questo ci riesce anche tu a saltare se tu un video davvero non lo so fare quando non registriamo la seconda parte no non registri no non la tua prima no noi siamo cazzimosi non registriamo due volte in un giorno volevo farli attendere e poi io devo finire poi con nero si io già l'ho finito adesso chiedo cosa deve fare non so cosa devo fare non saltare beh non lo sapevo cosa dovevo fare ho fatto ecco vediamo ecco vediamo ecco ecco vediamo ecco ecco vediamo ecco ecco io dovrei saltare su quella tartaruga no ecco ho fatto Andrea si vanta Di aver finito un livello Cosa strana Infatti ha solo due corno Io l'unico che vince un fungo Anche io l'ho vinto prima Adesso ci fermiamo E continueremo Un altro giorno con una seconda parte Arrivederci